Musica 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 Siamo riconoscendo al Signore che ha rendito ancora possibile la nostra riunione di questo giorno. Dio ha creato la comunità. Abbiamo fatto una buona cosa. Vediamo tutti i nostri trovati insieme. In una conferenza, una conferenza, una conferenza, per discutere, per partire, per cambiare le esperienze, per gli amici. È una buona cosa. Abbiamo tutti i nostri amici. Sare quindi insieme a un�48. Empire per litio. Inmakers cibi cibi. Si sta svolgt in�éricamente. E quindi es controller. Usi anche adesso in questo kuno. Non v рабbe dinheiro un luogo Josché. Se si vediamovi un attenzione Non lo cerchiamo Chim 79 L'amore tutti gli altri due anni. le franzo si sono trovati insieme possono essere in un'attività di couture le confezione le partagere le cose le pelle le rio le exchange è normale Dio ha creato l'homme per comunire e la verità comunione è una comunione chrétiena e la comunione chrétiena e la comunione chrétiena la base della comunione è l'amor la comunione chrétiena non c'è l'amor la comunione è impossibile si ci sono dei gruppi politici e non ci sono dei sottotitoli ma non c'è l'amor non c'è l'unico le partagere non si s'engono non c'è l'unico non c'è con di couto non c'è l'unico Ma l'amor chrétien è basa su l'amor L'amor a te poussé a aimer ton progetto Jezi ha detto Assessi tutti voi siete dei miei disciples Si avete l'amor, i amori Dio è amore E tutti i amori E tutti i amori E abbiamo la pace di appena al mondo Ma l'amor, i amori Non abbiamo connesso l'amor E ci hanno dato la vita E ci hanno dato la vita La Biblia dice Que noi, per gli amori Ci siamo tutti gli amori Per le frate La vita et la vita La vita e morire per gli altri E' come usano L'exemple del nostro Seigneur Jesucristo Il ha vécu per lui-même Il n'a mai vécu per lui-même Per gli altri, il ha multipli il pain Per gli altri, il ha mangiato e rassassi Ma quando lui-même aveva fei Il n'a mai fissuto di figli Il ha guiato gli altri Ma per lui-même C'è l'amore Il n'a mai vécu per lui-même Il ne faut que lui-même Il ne faut qu'il y ait les bêtes Il ne faut qu'il y ait les bêtes Il ne faut qu'il y ait la viande Il ne faut qu'il y ait le racing Il ne faut qu'il y ait le processus Il ne faut qu'il y ait les protéines C'est l'amour C'est l'amore Si il nous demande de nous En tant que chrétiens Je vous ai choisis 34 ann裡 35 whence concejono di fuite 35 un chritiente era progetگante 36 io e mamuno che lo ha uno 37 leiikkeante 30 które 33 poter Lex eterno 36 toman 38 che rua 39 maschino morte 39久 si voi rappići 40 punti 40 muti eater 41 41 Sono tutte le copie di noi, che farà di bambino, Ha fatto il suo nome di tuo nome di Cristo, La mia vita è una介É la mia ammori di Christo, E tuoi sia morto di la famiglia? E tui t'ai fatto un ammori di famiglia? C'è il mettere un po' che è rilevato di attirare? Non è un messaggio! Non è un messaggio! Non è un messaggio di un po' che è un appelloформato! Non i'moi messaggio di sono trasportato, Ad принципi di risponare di il file! Di un messaggio di un tipo di solidarieta! io sono nata ma isha che viene prendere le formine tutte le couleur tutte le lingue tutte le relation sono rinunito non ho visto che i conto quindi fanno prendere i personaggi fa cosa nenntara dire ai venuti vieni a vieni a vieni a vieni a dit ritriamo la condizione la divinazione le sette terre n'a pas de l'endamare i dounia etawakia le sette terre d'appresa e negativi riservi per le feu i dèvano ma fa qu'il le fasse il vien d'apprendre son épouse ce sont des homens de femme qui sont remplis de cet esprit il doit les amener e il ne va finir le reste du monde il ne va finir il ne va finir non c'est pas il ne va finir il ne va finir il ne va finir le partage il ne va finir passare il Grazie a tutti.